Michela Murgia ha suscitato un vespaio con un libello esile-esile, istruzioni per diventare fascista. Non ha letto forse nessuno, tutti quanti lo lodano o lo denigrano nelle trasmissioni televisive. Spostando il discorso rispetto a quello che effettivamente sta nel libro, che anche concettualmente esile, non fa altro che riproporre quello che è il discorso intrinseco alla democrazia fin dai tempi dei greci che l'hanno inventato. C'è il vulnus interno della democrazia, come comportarsi con gli intolleranti. Accettare la libertà di pensiero, anche di chi non la pensa come noi, significa stessere a rischio di essere soverchiati da chi invece non consente la stessa tolleranza. E allora bisognerebbe forse, come dice Pao, per essere intolleranti con gli intolleranti. Rinunciando così, però, ad essere democratici, è una questione, come vedete, schiettamente filosofica e che è difficile da superare. A questo problema di base, Michela Mugia poi aggiunge un'analisi dell'essico politico che negli ultimi vent'anni si è andato man mano in astrendo. E quindi si concentra sul fatto che l'avversario, che poteva essere controbattuto ma che comunque era rispettato, si è progressivamente trasformato in nemico. Un nemico che è sempre più ferinizzato, bestializzato, offeso per il difetto fisico e anche calunniato con la scusa della libertà di stampa oppure della libertà di satira. In questo clima che poi non riguarda nessuno, cioè, secondo la Murgia, sono atteggiamenti fascisti sia il rottamare di Renzi, sia il prendere in giro Brunetta per la sua poca statura, statura fisica, perché a statura morale probabilmente c'è anche. E ecco, tutte queste cose, secondo lei, sono fascismo. Ovviamente secondo me non lo sono, il fascismo è una cosa completamente diversa. Ci troviamo qua più che altro, quanto quella che chiama erodoto l'oclocrazia, il governo dei peggiori, della merda, significa oclos, senza girarci intorno. E quindi il fascistometro finale non parla di fascismo che ormai è stato sconfessato dalla storia, è legato a un periodo passato, ma è semplicemente una serie di item per vedere quanto il nostro pensiero è piccolo, quanto accettiamo delle frasi transgenze senza controllarle, senza dibattere, senza fare quei distinguo che poi sono alla base del pensiero intellettuale. In queste frasi, in queste 60 frasi, in cui dobbiamo vedere se c'è buonsenso o no, ci sono quelle cose chiaramente contrapposte. Per esempio, da una parte possiamo essere d'accordo con l'affermazione, anche sprezzante, che chi non ha un diploma non può essere un ministro della Repubblica. E dall'altra, invece, possiamo dire orgogliosamente, io sono laureato all'Università della Vita. Una cosa è sicura, nel momento in cui il tecnico viene offeso, se sei un medico, se sei uno schiavo della farmaceutica, se sei un intellettuale, se sei un radical chic sul Stato, eccetera, proprio quando l'istruzione non viene messa alla base di tutto, allora non è fascismo, ma sicuramente ci sarà crisi.